Buongiorno a tutti, sono Angelo Ripidella, ho aperto questa azienda biologica nel 2016. La nostra azienda si trova nel borgo di Traiata, che dista a pochi minuti da Roma. La nostra è una zona protetta, infatti da noi si trova anche una riserva naturale. Abbiamo scelto il biologico per dare al cliente un prodotto fresco e genuino. I nostri prodotti adesso di punta sono le puntarelle, tutta la famiglia di broccoli, ad esempio un broccolo romanesco e poi abbiamo anche altre varietà di camuli e cavolfioni. Nel nostro territorio vengono bene anche altri prodotti tipo melanzane, insalate, fagiolini, abbiamo anche un oliveto, infatti da quest'anno produciamo olio biologico e a presto sarà anche attivo appieno il nostro frutteto con vari frutti, quali albicocche, pesche e figli. La nostra azienda punta a sprecare il meno acqua possibile, infatti tutta la nostra azienda, sia il frutteto che l'orto, abbiamo degli impianti a goccia apposto per ridurre lo spreco d'acqua. Nel nostro terreno usiamo soltanto fertilizzanti naturali che vengono da allevamenti di bovino e ovino vicino alla nostra azienda. Grazie. 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 Grazie.